Chiara Ferragni e Fedez in Svizzera per un Bianconatale SHIP Una vacanza all'insegna della neve e del lusso per Chiara Ferragni e Fedez, che si concedono un Bianconatale insieme alle due famiglie, questa allegra e super chic compagnia ha scelto la Svizzera, nello specifico Andermatt. Chiara Ferragni e Fedez, un Natale SHIP. Hanno entrambi organizzato e portato a termine i loro numerosissimi impegni di lavoro per potersi godere un Bianconatale all'insegna della neve e del glamour. Stiamo parlando dei piccioncini più chiacchierati d'Italia, Chiara Ferragni e Fedez, che hanno deciso di concedersi vacanze super chic in Svizzera. La futura mamma di Leone ha prenotato per tutta la famiglia e anche per quella di Fedez in un residence a 5 stelle superior ad Andermatt, i fan lì seguono ogni giorno su Instagram, dove postano quotidianamente foto e video meravigliosi. C'è un unico neo, diciamo così, per la fashion influencer numero uno al mondo, la Ferragni non può sciare, contrariamente agli altri inverni dove, seguitissima dai follower, aveva dimostrato la sua abilità. Fa il broncio, la ragazza, mentre Fedez gira un video per prenderla in giro, visto che è l'unica della famiglia che, davvero, non può indossare la tuta da sci per godersi la neve e un vero Bianconatale. Il motivo? Tra piscine caldissime all'aperto circondate da abbondantissima neve e il tutto benedetto addirittura da un sacerdote come mostra Fedez in una clip e ogni comfort per rilassarsi, dobbiamo dirlo, Chiara e Fedez ci fanno venire voglia di essere proprio lì con loro, ad ammirare le dolci forme della facial blogger e a trascorrere un bianco Natale con i fiocchi, di neve. Questa vacanza, poi, è molto particolare rispetto ai soliti viaggi che blogger e rapper prenotano, entrambe le famiglie, con tanto di genitori, sorelle Ferragni e rispettivi cognati di Fedez a seguito, si sono uniti insieme per trascorrere le feste. Invitati speciali e immancabili? I tre cagnolini, due dei Ferragni, ovvero Matilda e il nuovo arrivato Pablo, e Leo, il barboncino tutto nero di Fedez, che vive a casa di mamma Tatiana. Fedez ciatore provetto, quanti talenti. Visto che la sua adorata Chiara Ferragni non ha potuto seguirlo sulla meravigliosa neve fresca della Svizzera, su piste mozzafiato e illuminate da uno splendente sole invernale, Fedez si è unito alla sua nuova famiglia sugli sci. E' un maestro. Esclama Francesca Ferragni, la sorella minore di Chiara ma più grande di Valentina, rimasta invece con la maggiore mentre gira un video al rapper milanese. La sua tecnica è davvero perfetta, con sci superunti e caviglie morbide e snodate, questo bianco Natale svizzero, dunque, ci ha rivelato un altro dei tanti talenti del futuro papà di Leone. Il suo buon Natale dalle piste è lanciato sui social con un po' di fiatone, è vero, ma anche con la grande gioia di trascorrere, finalmente, un po' di feste super chic in serenità con la sua nuova grande famiglia. .